La Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo ha presentato i dati che riguardano i quattro sportelli del centro della Fenice e le iniziative organizzate in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere del 25 novembre. Quest'anno la CPO ha pensato di rimanere a sostegno delle donne che sono vittime di violenza, di femminicidio, di violenza domestica e anche di tratta dedicando una particolare giornata alle donne all'interno della casa circondariale di Castronio di Teramo. Abbiamo pensato di regalare un momento di ascolto a queste donne ma anche un momento di bellezza e grazie appunto a delle professioniste che a titolo di volontariato verranno a darci sostegno e regalare un momento di coccole a queste donne. Negli ultimi anni è aumentato il numero di donne che si sono rivolte al centro antiviolenza alla Fenice della provincia un dato che seppur preoccupante assume una connotazione positiva. Il supporto offerto dalle professioniste del centro rappresenta spesso l'unico strumento per prevenire tragici epiloghi. Grazie al loro intervento molte donne trovano il coraggio di denunciare, accedono a opportunità lavorative quando necessario e ricevono aiuto per proteggere i propri figli. Da gennaio sono 70 le donne prese in carico al centro antiviolenza alla Fenice. Che cosa vuol dire questo? Prese in carico vuol dire che sono seguite dal centro antiviolenza attraverso il supporto dell'assistente sociale, del supporto delle due psicologhe e attraverso la consulenza legale. Solo il 30% è di nazionalità straniera, nel 70% dei casi si tratta di donne italiane. Il centro antiviolenza collabora in rete con i servizi sociali del territorio, con le forze dell'ordine, quindi con la procura, con i presidi di volontariato che sono sul territorio e quindi diciamo l'emersione di queste situazioni avviene per il tramite di tutta questa rete. Chiaramente noi cerchiamo di far fronte a queste esigenze ma c'è comunque un limite e andrebbero implementate le risorse che si occupano di questo tema.